L'Aquila svegliata oggi dall'ennesima operazione delle Forze dell'Ordine che coinvolge minori ospitati in città. Questa mattina i carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal Maggiore Michele Massaro e personale della Squadra Mobile, diretta dal Dottor Danilo Di Laura, hanno eseguito cinque misure cautelari su sei ordinanze, un minore ancora da rintracciare, disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori dell'Aquila, sul richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale. I minori fermati e colpiti dalla misura, quattro con custodia in carcere, uno con il collocamento in comunità, sono tutti egiziani e tunisini, ospiti di un centro per minori stranieri non accompagnati che si trova all'Aquila. A loro vengono contestati furti e danneggiamenti su vetture, ricettazione di autorubate, rapine attentata a rapine, estorsione, lesione e danni di coetanei, ospiti della stessa struttura. Fondamentali le testimonianze degli operatori, le vittime non hanno denunciato subito perché minacciate di morte, ma anche tutta l'indagine e l'osservazione attraverso le telecamere di sorveglianza. I reati contestati a minori si sono consumati tra gennaio e febbraio e si aggiungono a tutta una serie di episodi che avevano fatto parlare in città e per i quali già la procura dei minori, carabinieri e polizia erano intervenuti alla fine dello scorso anno. In quell'occasione il bottino fu di 15 misure cautelari eseguite nei confronti di minori stranieri, alcuni dei quali oggi maggiorenni, ritenuti responsabili di spaccio, rapine e estorsioni, sempre danni di ragazzi alloggiati nella stessa casa famiglia, molti venivano avvicinati al terminal di Colle Maggio. L'operazione rappresenta l'efficace coordinamento della procura dei minori che ha permesso agli investigatori di ricostruire il fenomeno criminale. Quattro dei coinvolti con custodia in carcere, compreso l'unico che potrà stare in comunità, sono i presunti responsabili di sette rapine commessi all'interno della casa famiglia. Con l'uso della violenza si sarebbero impossessati di soldi e cellulari minacciando di morte i ragazzi in caso di denuncio alle forze dell'ordine. I stessi minori, come verificato dai carabinieri della stazione di Pizzoli, avrebbero anche agito fuori dalla struttura danneggiando e rubando da numerose vetture in sosta a Pizzoli ma anche all'Aquila. Gli sviluppi investigativi hanno consentito alla mobile del capoluogo di eseguire la rimanente ordinanza di custodia in carcere nei confronti di uno degli indagati, accusato di ricettazione di autorobate, danneggiamento e furto ai danni di alcuni distributori automatici in due attività cittadine.